Continuiamo con la serie di partite amichevoli, anche qua in Finlandia. La prima non mi ha soddisfatto, specialmente dal punto di vista agonistico. In difesa siamo stati troppo teneri. Nonostante tutto siamo rimasti in partita per molto tempo e siamo riusciti a raggiungerli a 15 minuti alla fine, poi di nuovo hanno fatto degli errori che non dovevamo commettere. Speriamo domani di fare meglio.